Dal 21 al 23 di settembre l'Assemblea Generale dell'ONU ha convocato tutti i giovani del mondo a New York per parlare di cambiamento climatico, un tema molto attuale che vede i giovani sempre più coinvolti negli ultimi anni. Qual è l'importanza di riflettere su questi temi anche per i giovani del nostro territorio? L'aspetto più importante di questo appuntamento è innanzitutto quello di aver coinvolto finalmente i giovani in un evento internazionale, anzi direi mondiale. L'aver coinvolto i giovani vuol dire scommettere sulle generazioni future. Tante volte abbiamo detto che il tema dello sviluppo sostenibile è la salvaguardia sia del presente, sulla scorta della tradizione e del passato, che non va dimenticato, ma rispetto alla salvaguardia delle condizioni di esistenza delle generazioni future. Allora l'ONU pensa bene di coinvolgere le generazioni future, che poi sono i giovani di adesso, gli adolescenti di adesso, nella sfida climatica e nella sfida di, dobbiamo dire noi, dello sviluppo sostenibile. A New York andranno i giovani tra i 19 e i 29 anni, tra cui anche alcuni italiani, ma anche di tutti i paesi. E sarà il momento per confrontarsi. Alla nostra cara, vecchia Europa, questo summit deve dire parole giovani, parole di speranza, che hanno a che fare con il tema delle virtù ecologiche. I giovani spero ci possano dare il coraggio di fare delle scelte. Attualmente la politica non ha ancora realizzato gli obiettivi del 2015, degli accordi di Parigi, che stanno miseramente fallendo per la incapacità del leadership politico, che è una precisa volontà dei governi, di non attivarsi. Giovani, anziani e tutte le generazioni, anche il nostro paese, e perché no le comunità cristiane, devono attivarsi ora in qualunque modo. anche protestando in maniera serena e mai con la violenza, sempre senza violenza, ma protestando, perché questa è una sottrazione del futuro alle giovani generazioni.